Benvenuti a bordo del treno dell'entusiasmo, amici. Oggi ci imbarchiamo in un viaggio emozionante alla scoperta dei protagonisti della nuova edizione di Pechino Express. E non è una sorpresa qualsiasi, perché tra i concorrenti troveremo un volto noto e molto amato. Antonella Fiordelisi. Siete pronti a scoprire chi sono i coraggiosi partecipanti e dove li porterà la rotta del dragone? Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. Questa edizione promette di essere un'esperienza incredibile. Otto coppie coraggiose si avventureranno nella «Rotta del Dragone», un percorso che attraversa terre misteriose e culture millenarie. Tra questi audaci esploratori troviamo Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli, e Pierluigi Iorio, Cristian Ghedina e Francesca Piccinini, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, e, ovviamente, Antonella Fiordelisi accompagnata da Estefania Bernal. Ma non è finita qui. Il conduttore di sempre, l'irresistibile Costantino della Gerardesca, sarà affiancato da Gianluca venerdì dei De Gekal, promettendo ancora più divertimento e imprevedibilità. Il viaggio li porterà attraverso il Vietnam del Nord, con le sue risaie verdi e le culture affascinanti. Attraverseranno il Laos, con la sua natura magica e le città ricche di spiritualità, e infine giungeranno nello Sri Lanka, con il mare, i templi e i panorami mozzafiato. Sarà un'avventura senza precedenti. Qual è la destinazione esotica che sogneresti di visitare lungo la «Rotta del Dragone» di Pechino Express? Metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia. Ma la vera stella di questa edizione è Antonella Fiordelisi, che ha condiviso la sua gioia con i suoi follower su Instagram. Non possiamo fare a meno di chiederci come si comporterà in questa incredibile avventura. Non perdete l'occasione di seguirla. Questo viaggio promette di essere un'esperienza indimenticabile, e non vediamo l'ora di seguirla passo dopo passo insieme a voi. State sintonizzati, perché l'avventura inizia presto!